Faccio avanti e indietro, lo faccio con l'altra mano. Benissimo, adesso guardi la punta del mio dito, la segua con gli occhi senza muovere la testa, solo muovendo gli occhi. Adesso guardi il dito e poi rapidamente guardi il mio naso, di nuovo il dito e di nuovo il naso. Lo faccio da questa parte, guardi il dito di qua e guardi il naso.